Francesca Deandre, ex concorrente del Grande Fratello, ha vissuto momenti di vero panico a causa di un brutto incidente domestico che ha rischiato di costarle la vita. La nipote di Faber ha ingerito per errore un bicchiere di detersivo scambiandolo per yogurt, causandole dolori lancinanti agli organi interni e quasi perforando fegato, intestino e stomaco. Dopo essere stata ricoverata d'urgenza, Francesca ha condiviso la sua drammatica esperienza sui social, suscitando preoccupazione tra i suoi follower. Molti utenti hanno espresso solidarietà e augurato una pronta guarigione alla Deandre, ma non sono mancati dubbi sulla veridicità della storia raccontata. Alcuni hanno sottolineato che, per ingerire una sostanza chimica in quantità tale da causare danni così gravi, sarebbe stato impossibile non accorgersi dell'errore. Inoltre, il fatto che il detersivo sia stato scambiato per yogurt ha sollevato perplessità su come sia avvenuto l'incidente. Nonostante i dubbi emersi sui social, Francesca Deandre ha ribadito l'accaduto e ha lanciato un appello affinché si presti maggiore attenzione a sostanze pericolose, specialmente in presenza di bambini e animali domestici. La giovane ex geffina ha sottolineato l'importanza di essere cauti e vigili per evitare incidenti simili. Dopo l'incidente, Francesca è tornata a casa e si è ripresa, ma la vicenda ha suscitato un dibattito online sulla veridicità dei fatti. In attesa di ulteriori sviluppi, la Deandre ha ringraziato per il sostegno ricevuto e ha invitato tutti a prestare maggiore attenzione alla sicurezza.